Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Scambio di carreggiata, il ristringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Fino all'8 dicembre tratto chiuso per lavori al chilometro zero della provinciale 224 di Marina di Pisa per Frana. A Firenze in viale Piombino, in viale Etruria fino al 23 marzo per lavori, ristringimenti di carreggiata. Corsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! A Firenze in viale Piombino